Madonna che caldo! E ci saranno 40 gradi? Ciao a tutte e a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul canale. Io sono Lucia e come avrete potuto intuire dal titolo del video, il video di oggi sarà dedicato esclusivamente ai consigli di lettura per questa stagione estiva, dove questa calura ci costringe in un certo qual modo a mettere un po' da parte le letture di sostanza, come si suol dire, e anche i mattonazzi che vogliono che ci si sieda in divano e si legga con tranquillità. Io stessa, almeno la sera, mi sto accompagnando con letture più leggere e scorrevoli. Il mattonazzo lo sto riservando la mattina presto, quando le temperature sono più umane e soprattutto la casa è ancora addormentata. Come vi anticipavo, questo video è dedicato appunto a una serie di consigli per l'estate, se così vogliamo dire, in cui condividerò con voi tutti quei libri che rimandano all'estate e che è molto bello leggere all'ombra, sotto l'ombrellone, al mare o al lago, o perché no, anche sotto l'ombra di un albero se siete in montagna. Alcuni di questi libri li ho letti io stessa in estate, altri ve li consiglio perché sono leggeri e frizzanti. Altri ancora ve li consiglio perché, nonostante comunque siano dei libri che vi tengono incollati alle pagine, comunque anche se farete una lettura discondiva perché magari vorrete fare una passeggiata piuttosto che fare un tuffo in mare o nel lago o in piscina dove andrete, insomma, potete farlo tranquillamente perché non si perde assolutamente il filo. Iniziamo subito con i consigli. Il primo libro di cui vi voglio parlare, che ho detto assolutamente questo è un libro da spiaggia, o comunque un classico libro estivo, è I Sette Mariti di Evelyn Diogo, di Etelon Jenkins Reid, spero di averla pronunciata bene. Non voglio parlarvi molto specificamente di questo libro perché sarà oggetto della live di discussione sul mio gruppo Instagram per il gruppo di lettura attraverso le donne. A proposito, se non potete partecipare, non vi preoccupate perché caricherò qui comunque la live come è solito. Sappiate che comunque si tratta di un romance con tematiche LGTBQ+. La storia parte come una ricostruzione fittizia di una biografia di una diva degli anni 50, 60 e 70, Evelyn Hugo, e si fa attraverso la ricostruzione della sua vita sentimentale con i suoi sette matrimoni. perché la giornalista che viene ingaggiata per fare questo si chiede ma Evelyn Hugo ha realmente amato i sette mariti? Quali di questi ha amato realmente? E si verrà a scoprire nel corso della narrazione che in realtà Evelyn ha amato soltanto una persona e questa era un'attrice, sua collega, che si chiamava Celia St. James. Però all'epoca la relazione andava tenuta segreta perché se no si poteva finire in carcere. Di più non voglio dirvi perché appunto ci sarà una live di discussione. Se invece avete voglia di scoprire la vita di un'attrice realmente esistita in quel periodo attraverso una biografia reale, non posso che consigliarvi Jean Moreau di Lisa Gidsbourg in cui viene ripercorsa la vita artistica e umana di quella che è stata definita come la donna mangiatrice di uomini. Infatti Lisa fa un grandissimo lavoro perché pur partendo dall'immagine sublime che l'attrice rimanda le stesse, che l'attrice pone al di fuori, quindi come patina esterna ripercorre comunque i chiaroscuri della sua vita andando così a scavare a fondo, a partire dall'immagine seduttiva che traspariva dalle sue interpretazioni fino ad arrivare a indagare i suoi silenzi vulnerabili. Se invece siete alla ricerca di una storia dalle forti emozioni e volete scandagliare l'animo umano e nello stesso tempo vedere il lato oscuro dei social non posso che consigliarvi Muori per me di Elisabetta Cametti. La storia, ambientata a Milano e giù di lì, scandaglia il mondo apparentemente patinato delle fashion blogger e delle persone ricche e inizia con la scomparsa di una famosa fashion blogger sposata al primo genito di una ricca famiglia che ha un po' di... che gestisce il mondo della moda ma che ha anche interlazzi in varie vicende anche poco legali. La sorella di questa fashion blogger quindi inizia ad indagare più avanti con le indagini e più scopre una serie di dissonanze piuttosto rilevanti perché scopre un mondo fatto di depravazioni e bugie che finiranno per coinvolgere anche la sua stessa famiglia e anzi più avanti con le indagini e peggio sarà portando quindi alla luce tutta la depravazione che caratterizza questa famiglia ricca. Un altro libro che scandaglia l'animo umano per così dire e tiene il lettore sempre in tensione è Cortesia per gli ospiti di Ian McEwan una storia che è ambientata in una cittalità Aime va bene il caldo mi fa sbraggionare è una storia dicevo che è ambientata in una località di cui non viene mai specificato il nome ma che dalle descrizioni sembrerebbe essere senza dubbio la città di Venezia. Protagonisti della storia sono Colin e Mary una coppia che sta trascorrendo appunto le sue vacanze in questa località senza però particolare entusiasmo così come poco entusiasmante il loro stesso rapporto. La routine però viene interrotta improvvisamente quando incontrano un uomo, Robert che cambierà improvvisamente il loro destino e con esso anche il ritmo di lettura del racconto con un ritmo di lettura sempre più incalzante e sempre più in tensione fino all'epilogo finale che sicuramente vi lascerà spiazzati e che difficilmente riuscirete a scordare. È un libro che vale sicuramente la pena di leggere e anche se non è un giallo comunque saprà tenervi incollati alle pagine. Un altro libro che vi consiglio assolutamente di leggere in questa stagione è L'ombra del vento dello scomparso Carlos Ruiz Zafon. È un libro in questo caso che pur essendo un po' grandicello siamo sulle 400 pagine comunque si legge tutto d'un fiato e pur essendo incentrato sul mondo dei libri comunque è un libro che contiene del mistero. Infatti la storia ha per protagonista un ragazzino che si chiama Daniel Sempere che adotta un libro che si scoprirà poi alla fine essere appunto L'ombra del vento scritto da uno scrittore che nessuno conosce e legato a questo libro ci sta tutto un mistero su cui appunto Daniel Sempere insieme al personaggio Macchietta di Fermin Romero de Torres indagheranno su questo mistero portando alla luce quindi il motivo per cui questo libro è andato a finire nel cimitero dei libri nel cimitero dei libri dimenticati. Non posso dirvi di più perché sennò vi farei spoiler comunque spero che lo leggerete va bene lo leggerete perché vi saprà sicuramente trasportare in un mondo oltre che misterioso vi farà anche rivivere la Barcellona degli anni 50. A proposito di viaggio non posso che raccomandarvi di leggere un libro molto interessante che io stesso ho letto l'estate scorsa e che mi è piaciuto tantissimo ed è Lincoln Highway Amor Towel spero di averlo pronunciato bene anche in questo caso perché io e l'inglese proprio zero. Si tratta in questo caso di un bellissimo road book che vi trasporta lungo le strade americane in particolare i protagonisti hanno per progetto quello di attraversare gli Stati Uniti d'America da costa a costa utilizzando quindi questa grande arteria degli Stati Uniti che è la Lincoln Highway che collega appunto la città di New York con quella di San Francisco. Peccato però che con l'arrivo di altri due personaggi questi progetti andranno per così dire a ramengo e con una serie di capovolgimenti si arriverà quindi in crescendo verso il finale di cui non posso svelarvi nulla. Però sicuramente io l'ho trovato molto molto avvincente e ve lo consiglio assolutamente. Se invece amate i classici e non avete paura dei mattonazzi come la sottoscritta non posso che consigliarvi Il Conte di Monte Cristo di Alexandruman che voi vedete in questa vecchissima edizione che uscì circa una ventina d'anni fa con Il Corriere della Sera. Non starò qui a raccontarvi la trama perché è la storia perché tutti più o meno sappiamo di che cosa si tratta. Vi dirò semplicemente che è un romanzo completo perché abbiamo il romanzo rosa abbiamo il romanzo storico abbiamo l'avventura e abbiamo anche la serialità perché per chi non lo sapesse in origine questo era un folleton un romanzo quindi uscito a puntate quindi abbiamo anche la serializzazione oltre a essere un romanzo completo è anche un romanzo che in una botta sola condenta tutti i lettori. La vera protagonista della narrazione è La Vendetta. Abbiamo infatti qui la macchiavellica sensazione di andare a punire i malvagi con la loro stessa moneta e quindi avere un senso di rivalsa. Sfido chiunque di voi a dirmi che non ha mai desiderato nella vita essere Edmond Dandès e vendicarsi dei torti subiti. Se però non amate questo genere di mattonazzi perché difficilmente trasportabili per esempio in spiaggia ho un'alternativa dello stesso autore ed è Il tulipano nero che non ha niente a che vedere con la stella della Senna. Infatti si tratta di una storia ambientata nel XVI secolo in Olanda durante un periodo a cavallo tra il periodo repubblicano quello dello stakeholder Guglielmo in cui abbiamo un coltivatore di tulipani anzi due coltivatori di tulipani di cui uno è geloso dell'altro perché ha scoperto il segreto per produrre il tulipano nero e quindi decide di denunciarlo come traditore della patria prendo così una vera e propria spy story di più non vi dico perché lascio a voi la scelta di scoprire di che cosa parla questo piccolo gioiellino di Duma altro capolavoro questa volta del novecento è invece colazione da Tiffany di Truman Capote un libro reso immortale dalla fortunatissima trasposizione cinematografica che vede nei panni di Holly Golightly la mitica Audrey Hepburn bene dimenticatevi assolutamente del film perché questa è una storia completamente diversa infatti questa è la storia narrata dal punto di vista del vicino di casa di Holly di questa giovane promessa mancata del cinema Holly Golightly che vive al di fuori delle regole sociali e però segue un'unica regola nelle sue scelte di vita quelle della sua generosità tuttavia però viene coinvolta in un giro di droga dal quale uscirà però a sue spese perché infatti il matrimonio che doveva contrarre va a monde nonostante questo però il conformismo non avrà il sopravvento si tratta quindi di una storia che ha per protagonista un personaggio in questo caso Holly che è vittima di se stessa e che per questo a me ha ricordato tantissimo Gatsby del grande Gatsby di Fitzgerald e se avete amato come me il grande Gatsby non posso che consigliarvi questo piccolo libricino che si legge praticamente in una giornata se invece amate le storie un po' alla Elena Ferrante o alla Elsa Morante non posso che consigliarvi l'arminuta di Donatella di Pietrantonio scusate ma oggi con il caldo proprio non ci siamo si tratta in questo caso di una storia che sicuramente susciterà in voi come l'ho fatto in me una serie di emozioni incredibili l'arminuta che dal dialetto abruzzese che in dialetto abruzzese significa la ritornata narra appunto la storia di una tredicenne di cui non viene mai specificato il nome che per una serie di vicissitudini viene rispedita la sua famiglia di origine una famiglia povera dell'entroterra abruzzese e si troverà quindi spesata e non ben accolta in questa nuova realtà e in questa nuova realtà ad aiutarla sono soltanto la sua sorella minore Adriana suo fratello Vincenzo e il fratellino più piccolo Giuseppe per il resto comunque avrà un rapporto piuttosto conflittuale anche con la sua madre naturale di cui non viene mai specificato il nome al contrario invece di quella che lei riteneva essere la sua vera madre che è Adalgisa soltanto nel finale verranno poi specificati i motivi di questo ritorno alla famiglia di origine che tutti sapevano tranne che la protagonista se invece per voi l'estate è il momento in cui poter leggere in modo continuativo libri di qualità ecco che abbiamo la soluzione ideale e cioè Donna Flor e i suoi due mariti di Giorgi Amado un libro che tra sud è estate dalla prima all'ultima pagina non solo perché è ambientato a Salvador de Bahia quindi in Brasile è bellissimo ma anche perché è frizzante e silarante è per me stato una vera e propria boccata d'aria ho amato Flor ho amato tutto di questo libro mi è piaciuto tantissimo lo sguardo che ha avuto Giorgi Amado nei confronti del mondo femminile e l'ha fatto con ironia e una sagaccia tale che io raramente ho visto ma parliamo del libro si tratta sostanzialmente di una storia che vede per protagonista Flor che improvvisamente diventa vedova e ripercorre quindi nella prima parte quello che è stato il suo matrimonio con Vagigno una persona che peggio di così non si può è un giocatore d'azzardo è un feligrafo ne faceva passare a Flor di tutti i colori quindi vi lascio già immaginare anche perché tra l'altro lui è morto nel giorno di carnevale quindi è già tutto un dire poi c'è una parte di transizione in cui vediamo Flor avere l'elaborazione del lutto e poi abbiamo la parte la seconda parte in cui Flor si sposa con una persona borghese il farmacista della città e qui cominciano però i problemi perché mentre il matrimonio con Vagigno era praticamente una montagna russa quindi giorni di passione totale e giorni di litigate feroci con il farmacista ovviamente abbiamo un matrimonio tranquillo talmente tranquillo che Flor comincia a desiderare di nuovo il suo marito morto e talmente lo desidera che con un atto di volontà di pensiero riesce a richiamarlo tra virgolette in vita perché Vagigno ritorna sotto forma di fantasma abbiamo l'elemento caratterizzante della letteratura latina che è appunto il realismo magico e quindi inizia in questa fase un corteggiamento da parte di Vagigno fino a quando Flor non cederà tra mille sensi di colpa però alla fine si renderà conto che lei può prendere da tutti e due i mariti quello che vuole quindi la rispettabilità con il marito in vita quindi il borghese farmacista e la passione con invece il fantasma di Vagigno bene questi erano i miei consigli per le letture estive spero che con questi consigli abbiate trovato i libri che possono fare al caso vostro se non fosse così non vi preoccupate perché potete dare un'occhiata anche ai video precedenti e vedere se c'è qualcosa che vi può interessare come al solito io innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale ed attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui video sui contenuti del canale e inoltre vi ricordo che nell'info box metterò i link affiliati Amazon dei libri che ho citato così se voi volete comprarli potete farlo tranquillamente senza spendere nulla di più del prezzo di mercato diciamo così mentre io riceverò una piccola percentuale sul vostro acquisto in modo tale da mandare avanti il canale detto questo io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao